Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo all'avvertenza a Gela, oggi momento di preghiera dinanzi al Palazzo di Città, celebrazione eucaristica da parte del Vescovo della Diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. Ieri incontro a Roma, al Ministero dell'Ambiente, propedeutico all'attesa conferenza dei servizi del prossimo 18 febbraio. Una preghiera per i lavoratori dell'indotto e del diretto dello stabilimento Eni di Gela, un momento di raccoglimento dinanzi al Palazzo di Città in Piazza Municipio. È prevista per oggi alle 18 la messa che sarà celebrata dal Vescovo della Diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, sempre attento e vicino a chi soffre una crisi occupazionale senza precedenti. Una celebrazione eucaristica all'aperto per non fare perdere la speranza. La preoccupazione del prelato è che al dramma si possa aggiungere altro dramma, cioè quello di rivolgersi agli usurai e favorire ulteriormente la mafia, la malavita organizzata che è in agguato approfittando dello stato di disperazione degli operai e delle loro famiglie. Alla celebrazione eucaristica di oggi parteciperanno, oltre agli operai e ai sindacati, la città tutta ed il clero di Gela, dove è possibile le chiese saranno chiuse per far partecipare tutti alla preghiera. Intanto l'avvertenza Gela è seguita con particolare attenzione dalla Giunta Comunale. L'avvertenza Enio ormai è approdata su tutti i tavoli della politica italiana, ci sarà qualcuno che potrà incidere in maniera importante, a questa poi si aggiunge anche la protesta degli agricoltori, ormai un settore assolutamente al collasso. Sì, noi insegniamo tutte le attività produttive del territorio, infatti ieri eravamo a Roma, abbiamo parlato non solo di Enio, ma abbiamo parlato anche di petrol tecnica, abbiamo parlato anche di ampliamento del depuratore, che è pure all'interno del sito SIN, e quindi ci occupiamo non solo esclusivamente dell'avvertenza Enio, riferita al multinazionale, ma di tutte le attività produttive che si potranno insediare all'interno delle aree dell'ex zona industriale di Gela, dell'ex raffineria, diciamo. In secondo luogo, siamo stati due giorni fa, tre giorni fa a Palermo a parlare per quanto riguarda i contorsi di bonifica, abbiamo visto come sono le criticità, quali possono essere le soluzioni, stiamo trovando anche là delle soluzioni, per poter trovare dei finanziamenti aggiuntivi, per sconciolare l'aumento dei canoni per quanto riguarda l'acqua in rigua. Molte di queste competenze non sono parte delle competenze del Comune, però sono dei problemi che vive la nostra collettività, quindi è per questo che cerchiamo in tutti i modi di poter essere di supporto, di poter essere da pungolo, per poter trovare delle soluzioni a chi è demandato a farlo, ovvero sia Regione e Stato. ed è per questo che noi andiamo in tutti i tavoli, perché già il fatto di essere presenti vuol dire che c'è un'attenzione particolare. Il fatto poi da tecnici di poter dare anche delle soluzioni è quel qualcosa in più che può finalmente dare le risposte che le persone attendono. Però, ritorno a ripetere, molte di queste soluzioni dipendono da altri, non dall'amministrazione, ma l'amministrazione è presente per dire a chi è che deve poter attivarsi, chi è che può decidere di farlo in tempi brevi. Gela è una priorità conclamata del Ministero dell'Ambiente, ha detto il Vice Sindaco di Gela, Simone Siciliano, prendiamo atto ed esprimiamo compiacimento per la volontà di voler stringere i tempi, dei procedimenti e di tutte le attività di integrazione e delle azioni di intervento inerenti, il sito di interesse nazionale ed in particolar modo della raffineria di Gela. Il grande impegno delle istituzioni e di Eni, ha detto l'assessore, vanno inquadrati nell'ottica conciliabile dello sviluppo e del risanamento in un positivo intreccio sinergico atteso da troppo tempo. Tra meno di due settimane, lo ricordiamo, si ritornerà nella Sala Europa del Ministero dell'Ambiente per istruire interventi di bonifica relativi a tre aree pubbliche della Regione e 21 aree private tra la raffineria, l'ISAF, Sindial, Versalis ed anche Enimed. E questa sera, come ogni venerdì, torna a Gorà a partire dalle 21 sui teleschermi di Canale 10 ed in streaming, in diretta web, andrà in onda il rotocalco settimanale della nostra redazione giornalistica ideato e condotto da Franco Gallo. I sviluppi politici di una settimana tra le più complicate degli ultimi tempi in città con i consiglieri comunali del PD che si sono autosospesi dal partito per contestare gli atteggiamenti dei governi nazionale e regionale entrambi a guida PD rispetto alla delicata vertenza Gela. I lavoratori ancora in stato di agitazione ed un congresso cittadino alle porte che dovrebbe portare alla formazione dei nuovi vertici gelesi del Partito Democratico. Di questo e di altro, dunque, si parlerà questa sera ad Agora, ricordiamo l'appuntamento alle 21 sulla nostra mittente con diversi ospiti in studio. E adesso ritorniamo a parlare della manifestazione di ieri promossa dagli agricoltori contro il caro acqua per irrigare i campi, per il ripristino delle dighe comunelli di Suede e Cimia e l'abbattimento dell'Imu sui terreni agricoli. Sentiamo ai microfoni di Fabiola Polara il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa. Sindaco, mentre l'agricoltura del comprensorio muore, i protagonisti del settore protestano. Hanno perso tempo. Siamo in ritardo. Mentre noi protestiamo c'è chi lavora per farci altre belle sorprese. Qualcuno parla di mercato sleale e scorretto. Io dico che c'è una scorrettezza da parte della comunità europea nei confronti dell'agricoltura italiana. Ad esempio le arance, l'ortofrutta, l'olio. Ora, o capiamo che c'è un'esigenza di stare tutti assieme. Oggi ci sono focolai a Gela, a Vittoria, sui Nebrodi, a Scordia, a Palagonia, in altre realtà dove si sta manifestando per il problema agricoltura. Ma i nostri prodotti, le nostre eccellenze sono a rischio per questa politica europea? Sì, sono non a rischio. Ma non è più un'eccellenza perché il prodotto magrebino che entra ormai non si distingue più. Perché entrando diventa anche quello un prodotto biologico. Noi lavoriamo sul biologico, loro ne hanno i frutti. Se si parla di altri prodotti che possono essere dell'industria, che possono essere di alta tecnologia, immediatamente va bene il Made in Italy. Quando si parla di agricoltura, del Made in Italy, purtroppo nessuno ne fa cenno. Sindaco, una soluzione quale potrebbe essere? Attivare immediatamente qualche salvaguardia nei confronti. Limitare l'entrata, controllare cosa entra e su quale mercati va. Perché se noi mettiamo in atto qualche metodo di salvaguardia, forse qualcosa la possiamo ottenere. Cioè troppo rigore nella produzione in Europa e meno controlli e a tutela invece del prodotto nostrano? Questa è la base. I controlli da noi sono eccessivi, dall'altra parte sono inesistenti. Poi alla fine diventa un prodotto tutto uguale. Però oggi quello che si sta cercando di far passare è che l'acqua non può essere pagata a un certo prezzo. Che i consorzi non possono essere carrozzoni e dopo 30 anni, 40 anni ancora sono commissariati. La filiera lunga danneggia ancora di più i produttori locali? Per noi la filiera è talmente lunga che i mercati più vicini sono a più di 2000 km. Questo è un danno per la nostra agricoltura. Vedi, quest'anno c'è stato l'Expo, che era il massimo sulla nutrizione che si è svolto in Italia. Purtroppo l'Italia per la formazione geografica che ha, la lunghezza, la distanza, noi siamo rimasti fuori da tutto questo. Nonostante hanno creato un padiglione ad hoc per la Sicilia, che ha guadagnato su tutto, comunque è stata la Svizzera, la Francia e qualche altra nazione della Comunità Europea. Un'interrogazione sul progetto Agroverde è stata presentata dal consigliere comunale Giovanni Panebianco. Il consigliere chiede quali azioni l'amministrazione comunale intenda intraprendere su un progetto che rischia di rimanere sospeso. In una situazione particolarmente drammatica per la città gelese, non è possibile, dice Panebianco, rimanere inermi di fronte a possibili investimenti che darebbero nuovo slancio occupazionale ed economico. Sembra, continua Panebianco, che da qualche settimana gruppi imprenditoriali abbiano dimostrato interesse per questo progetto, prospettando soluzioni favorevoli per tutti i soggetti coinvolti. Non è plausibile quindi che Gela non prenda in considerazione la possibilità di far perseguire questi progetti da altre società nel caso in cui risulti impossibile farlo da parte del proponente. Di fronte alle richieste dei proprietari dei terreni espropriati, alle azioni giudiziarie e di fronte alla scadenza dei termini delle autorizzazioni comunali a suo tempo rilasciate per la realizzazione del progetto, il consigliere Panebianco chiede al sindaco Domenico Messinese quali atti il comune di Gela ha predisposto e intende predisporre per la revoca degli atti amministrativi di sua competenza e se ha intenzione di richiedere ed escutere dalla cooperativa Agroverde la polizza fideiussoria a suo tempo prevista anche a garanzia dei dichiarati danni paventati dai proprietari dei terreni oggetto di esproprio. Il consigliere chiede inoltre l'intervento in aula dell'assessore e del dirigente del settore competente. Una notizia di cronaca, due incendi nelle ultime ore a Gela in via Omero, le fiamme hanno distrutto una Fiat Punto ed in via Borromini nella zona di Margi il fuoco ha interessato una baracca utilizzata per la vendita di frutta e verdura. Cambiamo definitivamente argomento, stilato il cartellone delle Carnevale Gelese che prende il via domani. Vediamo. Carnevale 2016 a Gela, stilato il programma promosso dall'amministrazione comunale. Si parte domani dalle 20 a luna con la Notte Bianca. L'appuntamento in Piazza Umberto I, l'Auto Chiesa Madre, con la sfilata di moda organizzata da Conci Event ed ancora gastronomia e distribuzione di frittelle. Domenica 7 febbraio dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale. lunedì 8 febbraio alle 9 al Palacossiga, festa di carnevale organizzata dalla scuola di primo grado secondo circolo didattico e martedì 9 febbraio dalle 10 alle 13, sfilata in maschera con gli alunni delle scuole primarie e secondarie, banda musicale e majorette. Dalle 10 alle 14 in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura dell'Istituto Alberghiero. Alle 13.30 in Piazza Umberto I, premiazione della scuola per la maschera più bella a cura di Gelo Centro e Conci Event. Dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale ed in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura, sempre dell'Istituto Alberghiero. Con la città vive un periodo davvero di sofferenza economica, ma per la prima volta probabilmente i media, anche a livello regionale e nazionale, stanno un po' aiutando a far sì che si conosca la vertenza a Gela. Al di là di tutto questo siamo a Carnevale. I bambini di riflesso chiaramente hanno vissuto questa situazione di tensione, di tristezza nelle famiglie, ma anche nel più ampio complesso della città. A loro è dedicato interamente il Carnevale con tre giorni di allegria e divertimento, affinché non possano loro poi piangere le conseguenze di questa area di tensione. Sì, no, sono quattro giorni che servono proprio per dare quella freschezza ai ragazzi e ai bambini che ne hanno sicuramente bisogno. È stato impostato quattro giorni di Carnevale in piazza in modo tale da poter almeno allontanare dai problemi che giornalmente da diverso tempo ormai colpiscono le famiglie e quindi in modo riflesso anche ai bambini. Quindi quest'anno forse è ancora più importante perché bisogna non rubare la giovinezza ai nostri ragazzi e quindi credo che quest'anno proprio era necessario fare qualcosa, anche per consentire ai grandi di distrarsi un attimo. Le tensioni sono elevatissime, le aspettative pure, però un attimo di pausa credo che possa fare bene a tutti, ma soprattutto ai bambini a cui è rivolto quest'anno il Carnevale. Il 6 vi sarà un evento in piazza con un'associazione, con diverse associazioni, il Consorzio Gela Centro che faranno l'apertura prolungata fino alle ore 24, il 7 ci sarà un concerto dell'unica banda che abbiamo in città con la presenza delle scuole, l'8 ci sarà un evento al Palacossiga sempre con le scuole gelesi e l'8, il martedì 8, il martedì grasso, vi sarà una grande sfilata, l'alberghiero in piazza, insomma tante attività ed eventi che sono organizzate in parte dall'amministrazione comunale, in parte dai commercianti che ci stanno dando una mano d'aiuto. La scuola dell'infanzia Maria Teresa di Calcutta e la primaria cantina sociale Nelson Mandela sono state aggregate all'istituto comprensivo Gela e Butera, scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di Gela e quanto disposto dal decreto firmato dall'assessore all'istruzione e formazione Bruno Marziano relativo al piano di dimensionamento della rete scolastica Gela. Gli alunni della scuola dell'infanzia Maria Teresa di Calcutta e della primaria Nelson Mandela per l'anno scolastico 2016-2017 potranno iscriversi dunque all'istituto comprensivo Enrico Mattei, diretto da Agata Gueri. Può la memoria porsi dei limiti? Può la coscienza collettiva permettersi delle omissioni? E in che modo la memoria può coniugarsi con la necessità di conoscere e capire senza ancorarsi ai soli sentimenti? Sono gli interrogativi posti nell'ambito dell'iniziativa sul giorno della memoria che si è svolta nell'aula magna dell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela. Durante l'incontro sono stati spiegati agli alunni delle seconde classi la vicenda degli ebrei di Sicilia, illustrata dall'archeologa medievista della soprintendenza di Ragusa, Salvina Fiorilla, e quella delle donne che hanno combattuto immolandosi durante la Seconda Guerra Mondiale, molte delle quali ebree. Questo ultimo aspetto è stato curato dall'avvocato Giovanna Cassara, responsabile dell'Unione Donne d'Italia di Gela. Quello che abbiamo fatto è stato tentare di ricostruire la presenza ebraica in Sicilia, storicamente dall'epoca romana in avanti, e di comprendere come sia scomparsa invece questa presenza alla fine del Quattrocento a seguito delle persecuzioni di Ferdinando, d'Aragona e Isabella di Castiglia, e quindi come mai poi durante la Seconda Guerra Mondiale la Sicilia non abbia avuto la disgrazia di vedere tanti propri figli partire per i campi di concentramento tedeschi. Noi volevamo fare in modo che i nostri ragazzi di seconda riempissero un tassello della loro memoria. Certo loro hanno una memoria individuale, hanno una memoria sociale legata alla loro famiglia, ai genitori e nonni, hanno anche già una traccia di memoria collettiva. Ma perché non spiegare anche a questi ragazzi il motivo per il quale la Sicilia non ha dato il suo terribile contributo alla Shoah? Come non spiegare a questi ragazzi ciò che ha portato la Sicilia ad essere priva di quelle comunità ebraiche che invece costellavano tutta quanta l'Europa? E allora attraverso il recupero di un fatto lontano nel tempo, ma è importantissimo, perché è presente nella storia di tutti, ecco che noi miriamo veramente alla conservazione della memoria, ma quella lunga e quella profonda. Si darà venerdì 12 febbraio alle 17.30 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro di Antonio Maria Calafiore, La luce del tramonto. Converserà con l'autore il giornalista Anza Franco-Infurna. Sarà presente l'editore Simona Maimone. Social gossip dalla chiacchiera di cortile al web pettegolezzo è il titolo del libro scritto dai sociologi Antonia Cava e Francesco Pira. L'opera ripercorre la funzione socio-comunicativa del pettegolezzo interpretando i media come spazio privilegiato del voyeurismo verbale. Cava e Pira sfidano il pregiudizio che lega il chiacchiericcio al frivolo invitandoci a prenderlo sul serio. Attraverso l'analisi dei linguaggi televisivi e delle narrazioni delle web il libro restituisce l'importanza dei rumors come pratica collettiva che coinvolge l'intero corpo sociale nella produzione di significati. Abbiamo cercato di comprendere quali fossero i significati sociali di questo particolare tipo di interazione comunicativa e abbiamo scoperto che è un voyeurismo verbale, così lo definiamo, che ha grande successo. I punti di fascinazione di questa formula del racconto sono essenzialmente il fatto che si propone come una opera aperta. Il pettegolezzo è una storia partecipata. Nel suo passaggio di bocca in bocca ciascun fruitore diventa autore di questo sentiero narrativo e questo è il primo punto di forza. Dicevo che una parte del volume è anche dedicata a studiare la spettacolarizzazione del pettegolezzo che diventa nei nostri palinsesti televisivi un vero e proprio nuovo format che affascina profondamente tutti gli spettatori. Quindi l'obiettivo del volume è quello di condannare in qualche modo il pregiudizio che collega il pettegolezzo a qualcosa di frivolo studiandolo come un'interazione comunicativa di interesse sociale rilevanti. Oggi il pettegolezzo è sicuramente una forma di narrazione lo è per i giornali, per la tv, per la radio ma lo è soprattutto attraverso i social network. Nel nostro volume abbiamo cercato di lavorare attorno a due concetti come anche il mondo del giornalismo, della politica risponde alla sollecitazione del pettegolezzo come il rumor diventa gossip e in questo passaggio che cosa può accadere. Il giornalismo certamente ha abbandonato quello che nel passato era una regola ferrea pubblicare solo quello che è corroborato da verità e quindi avere una fonte certa. Oggi basta un rumor per creare una notizia e pubblicarla, anche perché i tempi si sono molto ridotti e c'è molta velocizzazione nel lavoro di redazione. L'altro aspetto che abbiamo esaminato è quello legato a che impatto può avere il gossip tra i più piccoli, quindi preadolescenti e adolescenti con portali come per esempio ask.fm o anche un giro di notizie e di immagini attraverso Facebook, Twitter o anche Instagram. I gelesi che hanno richiesto di fruire della servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'ufficio di segretario sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Lo rende noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. Il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65enni e portatori di handicap gravi ai quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante il voucher sociale. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale continuano gli appuntamenti locali organizzati dall'associazione FIAB Gela Nanocicli nell'area pedonale dei muretti di Macchidella. Domenica 7 febbraio sarà allestito un negazebo informativo sarà come sempre l'occasione per i cittadini di incontrare la FIAB Gela Federazione Italiana Amici della Bicicletta Nanocicli sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città e a livello nazionale. Sarà possibile inoltre ritirare il calendario 2016 ricco di impegni e di divertimento. Ed ora la nostra consuetà rubrica in breve. La sottosezione dell'Unità al CD Gela celebra la giornata mondiale del malato. Sabato 6 febbraio è prevista una celebrazione eucaristica che avrà inizio alle 15 presso la casa di riposo Antonietta Aldisio. Giovedì 11 febbraio giornata mondiale del malato in Chiesa Madre con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato. domenica 14 febbraio celebrazione eucaristica presso la casa di cura Santa Barbara. Il comitato femminile della Procivis di Gela organizza per domenica 7 febbraio alle 17 una festa in maschera oltre la disabilità. Appuntamento nei locali di Via Ossidiana al numero 23 con animazione, giochi di gruppo, baby dance e buffet di dolci. Proseguono gli appuntamenti musicali a Palazzo Principessa Pignatelli di Gela domenica 7 febbraio alle 19 concerto pianistico a quattro mani con Sara Musumeci e Tiziana Terranova, il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona. Appuntamento col teatro al comunale Eschilo di Gela sabato 6 febbraio alle 17.15 alle 21.15 Maglio Dovie e Matilde Brandi si esibiranno in spettacoloso con Cosimo Coltraro e Ciro Pusateri. Per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Favole in Famiglia è la prima rassegna di teatro per l'infanzia ideata dal Movi e promossa da Nave Argo e dalla Casa del Volontariato di Gela con questo progetto si vuole ribadire come anche il teatro possa essere un utile strumento per creare partecipazione e socialità all'interno di una comunità soprattutto coinvolgendo i bambini e i loro familiari gli spettacoli in programma saranno rappresentati verso la Sala Teatro Dompino Puglisi della Casa del Volontariato a Gela in via Ossidiana primo appuntamento domani alle 18 con lo spettacolo Cappuccetto Verde interpretato da Iridiana Petrone ed Emiliano Longo con la regia di Antonella Caldarella e adesso occupiamoci di sport ed in particolar modo di calcio dopo l'amaro pareggio di domenica scorsa a Camerata col Camerata il Gela non può più fallire domenica al Presti arriva il Paceco, vediamo Lo striminzito pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo del Camerata ha deluso le aspettative dei tanti tifosi che hanno a cuore le sorti del Gela un risultato che non è piaciuto affatto ai supporters biancazzurri che hanno assaporato la conquista della vetta della classifica del girone A del torneo di eccellenza solo per una settimana e il pareggio, siamo sicuri, non è andato giù neanche al tecnico Totò Brucculeri una squadra che punta alla promozione in Serie D non può permettersi certi passi falsi si pregiudica in 90 minuti quanto di bello e prezioso fatto nel corso delle altre partite perché la vittoria con la San Cataldese suggellata da un euro goal del capitano Borafini doveva rappresentare il trampolino di lancio lo stesso allenatore lo aveva detto a Camerata sarà una prova di maturità fallita sicuramente in merito al risultato finale anche perché le altre corrono la San Cataldese infatti ha nuovamente allungato sulla truppa biancazzurra portandosi a più due dopo il successo ottenuto nel derby con l'atletico Campofranco e il Gela, adesso secondo, è stato raggiunto dal Dattilo Noir a quota 39 in questi giorni successivi alla mara trasferta nell'Agrigentino il condottiero gelese ha richiamato all'ordine i propri ragazzi li ha catechizzati a dovere bisogna riprendere la marcia da subito l'occasione propizia si presenta tra due giorni al Vincenzo Presti i pandolfi e compagni riceveranno la visita del Paceco impegno non facile, assolutamente gli avversari infatti accusano solo quattro punti di distacco dalla formazione preseduta da Angelo Tuccio arrivano dal pareggio in casa con il Mazzara sarà quella di domenica una partita da vincere a tutti i costi per i gelesi senza se e senza ma all'andata il Gela si impose per 2 a 1 il programma di domenica prossima prevede la trasferta della capolista sancataldese a Favara e l'incontro casalingo del Dattilo Noir contro la Folgore Serinunte vincere e convincere questo chiedono i tifosi biancazzurri la Serie D è dietro l'angolo ma se si gioca come a cammarata è inutile nasconderci dietro un dito tutto sarà maledettamente complicato sono aperte le iscrizioni all'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici 0933 914419 ripetiamo 0933 914419 o 340 7249566 ripetiamo anche questo numero telefonico 340 7249566 o inviare una mail a giubbeditaliagela.com la pagina dello spettacolo sono due i film in programmazione al Cineteatro Antidolo di Macchitella a Gela alle 17.30 e alle 19.30 è prevista la programmazione del film Carol e alle 21.30 il Ponte delle Spie ci fermiamo anche per oggi abbiamo concluso grazie e arrivederci grazie a tutti